Ok, per fare questo esercizio vi servirà una panca e un manubro. Manubro lo metterete sulla gamba con la quale dovete andare a svolgere gli esercizi. Da qua aggiungete la posizione di trasta, quindi posizionate bene le spalle sulla panca, sul sostegno e mantenete la gamba sollevata a terra. Scendete con il bacino verso terra e riportatevi in posizione di partenza. Ricordatevi sempre che il ginocchio non deve cadere all'interno, mantenete bene verso l'esterno e si seguite bene.